Noto trovata con la cocaina addosso 29enne segnalata dalla polizia. Nelle giornate del 14 e 15 maggio agenti del commissionato di Noto hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio controllando 40 veicoli e identificando 55 persone. Numerose sono state le infrazioni al codice della strada rilevate, infatti sono state contestate sanzioni per un totale di 5.000 euro. 3 veicoli sono stati sottoposti a segresti amministrativi e 5 a fermo amministrativo. Nel corso del suddetto servizio sono state controllate 20 persone sottoposte a misure limitative della libertà personale. Inoltre, sempre nel medesimo contesto operativo, nella serata di ieri, gli agenti del commissionato hanno segnalato alla competente autorità amministrativa una donna di 29 anni trovata in possesso di una dose di cocaina.